secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie 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 che snaggia età ma dai mohette 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 è molto importante forza così porco diaz madonna cazzo c'è davanti porco dio davanti cazzo di me mi se adesso la fa e che facette chiamassi le carabiniere oggi è l'ultimo dell'anno oh oh dio eh non devo fare casinogio quanzo la fa hai spaccim la maronna la conferenza c'hai trutto cazzo ah sì sicuramente più tardi cazzo di bene mannaggia amaro no ciao 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 attento ai giornalisti ma state di merda giornalisti fatusi cazzo cazzo e cazzo 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 no vai giù no mannaggia a gesù christian porco dio ma vangu dieci nove otto sette sei cinque quattro tre cinque due uno vai giccio balla vai giccio vai giccio covid free free covid sparate e 5 god grazie di cento euro cento euro porco dio cento euro euro cazzo sono tanti grazie grazie vichess j5 god grazie di cento euro grazie a tutti grazie grazie